ciao a tutti oggi parliamo di una spolonatrice con rotori a 20 asse di rotazione perpendicolare al filare si tratta di un attrezzo scavallante che consente di completare la lavorazione in un unico passaggio la testata si compone di due serie di rotori alle cui estremità sono montati i flagelli che determinano il distacco dei polloni la spolonatrice deve essere impiegata quando i germogli presentano una lunghezza di 10 15 centimetri e una consistenza erbacea che ne facilita il distacco adesso andiamo a vedere come funziona l'attrezzatura consente di procedere ad una velocità compresa tra due e tre chilometri orari tra i vantaggi di questa attrezzatura dobbiamo prendere in considerazione la limitata produzione di polvere il fatto di non essere intralciata dalla presenza dell'alago ciolante e anche l'azione delicata che ne consente l'impiego anche negli impianti giovani detto questo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video ciao a tutti